video di marketing di mille accendini sullo sfondo vedete la mia ultima creazione una stufetta video appena finito di girare per mille accendini e il video di marketing di oggi si chiama che cosa sarebbe youtube senza i commenti youtube e la risposta di mille accendini sarebbe come una pasticceria siciliana a milano perché quando sono stato in sicilia in bicicletta mio amico siciliano non mi ha detto e c'è ragione perché è vero ha detto quando ci stanno le pasticcerie siciliane a milano i prodotti però non hanno lo stesso sapore non riesco a capire perché perché in fondo il grano il grano la panna panna latte latte saranno di alta qualità anche a milano non è che vengono le ciofeche a milano eppure a milano le pasticcerie siciliane non hanno la stessa bontà e perché ci ho pensato e ci ho pensato e ci ho ripensato e la risposta l'ho trovata a milano le pasticcerie siciliane non hanno la stessa bontà di quelle siciliane in sicilia perché a milano non ci sono i siciliani è pieno di milanesi cioè tra una garbagnata però insomma a milano non ci stanno i siciliani e questo è molto importante perché i siciliani sono molto critici quando vanno e in pasticceria si complimentano e oggi la ricotta ti è venuta benissimo in siciliano lo dicono è venuta una bontà una squisitezza sta ricotta oggi è venuto male o è travenuto meglio ieri quindi essendo molto intenditore il pubblico il cuoco lo chef è sottoposto a una continua critica negativa positiva comunque molto competente e molto attenta e quindi e quindi in un posto dove c'è una continua attenzione e chi sta attento ai feedback che corregge continuamente il tiro e quindi è per questo che youtube supererà la televisione perché le persone perlomeno più attenti al marketing che lavorano su youtube poi poi statisticamente sono quelle che vanno in cima insomma quelle che stanno più attenti al marketing tra le varie cose devono star sicuramente attenti ai feedback che arrivano dal pubblico dai più o meno competenti un altro motivo potrebbe essere una considerazione come mai youtube italia è una così schifezza di anche perché ecco perché inondata da bimbi minchia ma questo però succede succede in tutto il mondo quindi quindi diciamo la fetosità del pubblico di un determinato tipo di pubblico fa sì che i video poi emanino fetore però allo stesso modo qualsiasi tipo sia il pubblico comunque se lascia feedback fa sì che il prodotto si automigliori che ci sia in insita in nella formula che c'è di questa metodo di comunicazione un metodo che porta a migliorarsi no ad evolversi ecco ad evolversi seguendo quelle che sono migliorarsi no perché se poi la società si tende a peggiorare e automaticamente i contenuti youtube tenderanno di soddisfare quello che vuole la società però c'è questo meccanismo incredibile il commento il commento quindi ragazzi se volete lasciare un commento pollice in su invece è obbligatorio mi raccomando pollice in su